congratulazioni battendo gli avversari in casa avete ottenuto il diritto a far parte della loro banda questo significa che avrete accesso anche all'oraere speciali hai giocato bene amico il tuo grado di esperienza come possiamo perci di farti diventare il pilota dunque è ora di partire riassumere il controllo del nostro potente thunderbolt secondo a 10